Eder Production, Isolo Esparse, Renato De Pauli. Buongiorno, oggi parliamo, anzi leggiamo l'articolo del giornale di Vicenza sabato 18 febbraio 2012, i redditi dei poveri consiglieri della giunta regionale Veneta. Allora, cominciamo a leggere. Luca Zaia ha dichiarato 169, 174.979 euro. Giancarlo Galan ne ha guadagnati 181.288. Poi c'è Renato Chisso, 114.758. Poi Maurizio Conte, 146.666. Roberto Ciambetti, 114.747. Isi Coppola, 120.000 euro, 829. Elena Donazzan, 119.000 euro, 567. Mauro Finozzi, 129.000 euro, 421. Massimo Giorgetti, 143.230 euro. Franco Manzato, 122.000 euro, 122.015 euro. Remo Cernagiotto, 121.919 euro. Daniele Stival, 115.419. Ruffato, 210.742 euro. Azzalin, 86.931. Baggio, 106.278. Andrea Bassi, 98.000. Davide Benidelli, 89.000. Erotti, Dario Bond, 144.912. Franco Bonfante, 143.000 euro, 449. Bortoli Mauro, 82.000. 128.598 euro, 128.598. Diero Bottacin. Santino, 114.000. Federico Canner, 126.000. Capon, 97.000. Causin, 99.000. Erotti. Cenci, 102.000. Erotti. Conta, 227.583. Corazzaris, 75.000. Cortelazzo, 103.000. Fasoli, 97.000. Foggiato, 109.000. 365. Franchetto, 101.000. Furlanetto, 120.000. Laroni, 122.000. Lazzarini, 105.000. Marotta, 102.000. Leonardo Padrin, 111.000. Peraro, 93.000. Pietrangelo, 105.000. Pipitone, 143.000. Possamai, 82.000. Puppato, 126.000. Reolun, 110.000 euro. Ruzzante, 127.000. Sandri, 137.000. Senigallia, 92.000. Teso, 119.000. Alberto Tesserin, 178.000. Lucio Tiozzo, 94.000. Tosato, 93.000. Toscani, 107.000. Valdegamberi, 123.800. 68.000. Valdegamberi. Dopo che i Vicentini, Berlato, Sella, 154.000. Rotti euro. Finco, 86.000. Fracasso, 85.000. Grazia, 112.244. Infine, Costantino Tognolo, con 100.191 euro. E poi ci sono anche gli ex consiglieri. Onorio De Boni, Udc. Di Chiara, 92.234. Giuliana Fontanella, 77.993. Megio Laro, 54.751. Rizzato, 94.927. Va bene, questo è pubblicato ieri sul bollettino ufficiale della Regione. È l'anno dell'elezione del Consiglio attuale. È insediato in maggio. ma pare che Bortolussi sia quello che guadagna di più. 529.961 euro di reddito complessivo. È il capo della CGA di Mestre. Vedremo cos'è questa CGA di Mestre che ha tutti questi schemi. Va bene? E poi avanti. Poi c'è Mainardi, 251.000 euro. E poi c'è 384.000 euro. in fondo alla file. Vabbè, questo è il bollettino delle tasse chilometri zero. Grazie se mi avete ascoltato e dal prossimo episodio risparse Renato De Paolo. Grazie a tutti. Grazie.